E finisce esattamente all'ottava puntata la prima parte della nuova tornata di Arrow 7, ma soprattutto, e di questa cosa sono entusiasta, finisce esattamente con la stessa sequenza, la stessa scena di Flash, della 5x08 di Flash. Perché sono contento? Perché è tutto così molto comodo, onestamente. Quello che vediamo è di fatti il prologo alla miniserie che ci sarà quest'anno, miniserie che coinvolgerà Flash, Arrow e Supergirl, e che introdurrà Batwoman. A questo punto viene per logica che anche l'ottava puntata di Supergirl della quarta stagione terminerà allo stesso modo, se non avrebbe senso, anche se un'altra terra avrebbe fatto lo stesso. Che dire, queste prime puntate di Arrow. Arrow 7, va bene, compitino, va bene, non c'è niente di entusiasmante, niente di entusiasmante, però si guardano, si guardano, è di nuovo sotto a Flash. L'anno scorso avevo avuto un'inversione di tendenza, tendenzialmente, scusato il gioco di parole, in cui avevo apprezzato maggiormente, forse, Arrow rispetto a Flash nel complesso. Qui invece ritornano le cose come stavano in precedenza, ovvero sia, Flash è tornato ad essere un gradino sopra ad Arrow. Torniamo alle dinamiche di queste prime puntate della settima stagione. Arrow, o meglio Green Arrow, o meglio Freccia Verde, o meglio Oliver Queen, ormai tutti quanti sanno che era lui, sanno che è lui. Le prime puntate sono per lui praticamente sempre ambientate nella prigione, con robe abbastanza standard per l'eroe in prigione, fondamentalmente. In realtà non mi aspettavo che continuasse così a lungo, tutto sommato, la sua permanenza nella prigione. Pensavo che, come nelle tradizioni delle serie televisive superioristiche, in primis Smallville, quando l'eroe cadeva nel season finale precedente, poi si andava a riprendere abbastanza rapidamente. Così non è stato, sono abbastanza contento di questa cosa. È stata lenta l'uscita di Oliver dalla prigione. Ovvio, non c'è nulla di realistico in tutto quello che vediamo, al di là dello scenario fantastico, però va bene così, anche a livello legale penso che sia un assurdo, dalla prima all'ultima parola che viene detta in questa stagione, però va bene così. Che cosa devo dire, però? Non mi dispiace il fatto che Oliver sia definitivamente ormai freccioverde, grinarro, agli occhi di tutti, perché il tema della identità segreta ha un po' stufato, tutto sommato, soprattutto per lui. Una cosa originale, un pochettino, è che di fatto il team non si è ricomposto, perché si ricomporrerà e pian pianino un pochettino si è ricomposto, nel senso, però non si è ancora del tutto ripristinato così com'era. Questa stagione effettivamente distacca un pochettino quello che era il mondo precedente a questa stagione, perché i vari personaggi hanno altre vite un pochettino, ovvio, la serie è quello che è, il tema è quello che è, per cui tutto va poi di nuovo a cozzare in quel senso, va tutto a tornare in quel senso, va bene così, non stia pretendendo chissà che cosa, però non dispiace il fatto che ci metta un po' più tempo del solito fondamentalmente, per ritornare tutto come era all'inizio, o quasi. Il team non si è abbergato, fortunatamente, perché diventerebbe un po' stantia la cosa, prevedibile l'evoluzione della Black Siren Laurel, che diventa buona, ma quello lo sapevamo. A questo punto, però, purtroppo, e questa cosa mi fa molto, lascia molto la mare in bocca, ritorna un flash, o meglio, ritorna un cambiamento di scenario alternato con la storia principale, e questa volta non è più la storia di Arrow sull'isola, grazie al cielo, quella l'abbiamo conclusa con la quinta stagione, nella sesta a me era piaciuto il fatto che non ci fossero di nuovo i flashback, però, di lo stia alla memoria, siamo tornati ad avere in una serie televisiva dei flash forward, difatti apparentemente, perché fino ad ora soltanto apparentemente possiamo dire, quello che vedo in alcune scene è un'ambientazione di una ventina e passa di anni superiore alla passata, più vecchia da quella che si vede in una narrazione normale, vediamo William, il figlio di Oliver, che cerca di capirci qualche cosa di quel che è stato, penso, della sua famiglia e dei suoi genitori, di forse eventualmente di nuovo, di salvare la città, reincontra vari personaggi, ex compare di Arrow, tipo Roy Harper, di nuovo la nuova Black Canary, che onestamente non mi viene in mente come si chiama, ma fa lo stesso, tanto non mi frega niente di lei, tutto molto semplice, nel senso, compare anche una che posso presumere possa essere una figlia di Felicity, che apparentemente nel futuro diventerà malvagia. In realtà io so già in qualche modo una cosa sul personaggio, ovvero sia so già che il personaggio di Felicity lascerà la serie alla fine di questa stagione, da alcune cose che mi sono state spoilerate, non solo a dinamica, onestamente, non mi struggo per questa cosa, non sono appassionato del personaggio, sarà una bella batosta per Oliver, però effettivamente l'evoluzione che sta facendo il suo personaggio potrebbe giustificare forse un suo allontanamento dall'andazzo del Team Arrow, tutto sommato. Vedremo come si evolverà. La prossima stagione credo che sarà l'ultima, è stata pianificata essere l'ultima e dovrebbe essere anche con un minore numero di puntate, di questo sono molto d'accordo. Avrei voluto che Arrow si concluisse con la quinta stagione, con il quinto flashback, l'avevo già detto, non lo sto a ripetere, perché è sempre così la solfa. Non c'è niente di così pathos e appassionante. Al momento sappiamo che c'è un emule di Oliver Queen che fa il green arrow della situazione, soltanto che ancora non si hanno indizi su chi possa essere in realtà. è comparsa nell'ultima puntata di questa prima parte, nella 7x08, è comparsa una evidente nuova membro della famiglia Queen, una sorella segresta di Oliver e evidentemente una figlia segreta di Robert Queen. non ce ne potrebbe fregare di meno, però vabbè, ci può stare, chi se ne frega, e direi che a questo punto, niente, compitino, va tutto bene, si guarda, ci sono certe amenità, ma chi se ne frega. Di Azz purtroppo ce l'abbiamo ancora un po' fra le balle, e quindi non ce la dobbiamo tenere, però che ci vuoi fare? Purtroppo è andata così, speriamo che non diventi un anti-eroe perché la cosa diventerebbe veramente stucchevole in realtà. A questo punto direi che passerò a Supergirl e poi finalmente potrò vedere il crossover di quest'anno e prima o poi vi rivedrò i famosi Legends of Tomorrow 4, dai. Ed è andata anche quest'annata, è andata anche questa volta Arrow, la settima stagione del caro Freccia Verde versione Arrowverse, ovviamente, e il nostro Oliver Queen, Stephen Amell, si è conclusa anche questa volta la tornata. E che dire, è andata come è andata. In realtà, personalmente, così tanto, in parte, mi ero gasato perché avevo rivisto un qualcosa che era andato perduto nella scorsa stagione di Arrow, o meglio, avevo visto nella scorsa stagione un qualcosa che negli anni si era andato calare, perché le prime avvisaglie di Arrow, soprattutto la seconda stagione, avevano un qualcosa di davvero notevole, secondo me. Con gli anni questa cosa si è persa, la scorsa stagione l'ho vista ritornare, questa cosa. Questa stagione, inframmezzata ovviamente dal crossover, che descriverò con un intervento a parte, ha avuto, se vogliamo, un po' i fasti della scorsa stagione, e della seconda, più arretrata, e un po' ha avuto invece i nefasti della, sperando che si dica così, i nefasti delle stagioni successive, quelle che mi hanno meno convinto, in definitiva. Questa stagione, un pochino con l'ostiana memoria, ci permette di vedere, oltre eventuali flashback, oltre la linea temporale presente, oltre l'immediato passato, andiamo infatti nel futuro, andiamo in un futuro molto lontano, circa una ventina di anni. Dopo questi vent'anni, abbiamo quindi una Star City, o più spesso The Glades, la porzione di Star City secondaria, diciamo, che è minacciata, è minacciata da multinazionali, che vogliono mettere a fare fuoco la città, fondamentalmente, e abbiamo quindi una nuova generazione di eroi. Fra tutti questi, di fatto, viene il capitano della tribù, William, il figlio di Arrow, che in qualche modo, cresciuto lontano dalla famiglia dottiva, ovviamente dal suo padre Oliver, e anche dal personaggio di Felicity, va in giro a recuperare i figli discendenti, di coloro che avevano difeso la città a suo tempo, nel presente, nel nostro presente, e il suo passato, e recupera anche qualche vecchio eroe, fra cui è l'esempio, la Black Canary Dina, oppure Roy Harper Arsenal. In realtà, la premessa del futuro, è che sta per succedere qualcosa di terribile, e la causa di questo, potrebbe essere in qualche modo, un sistema di difesa, progettato da Felicity. Felicity, personaggio che, per un bel po' di puntate, nel setting futuro, non compare, e soltanto più avanti, nella storyline del futuro, verrà rivelato che, in realtà, oltre che Felicity essere innocente, in realtà, è sempre continuata ad essere un'eroina, e la leader femminile di questo gruppo di nuovi eroi, è in realtà mia, la figlia di Felicity e di Oliver. Parallelamente a questa storyline, quindi, a questa avventura nel futuro, abbiamo invece quella del presente, caratterizzata, inizialmente, da una prima parte della stagione, la prima parte quella, quando ancora Oliver è dietro le sbarre, perché ricordiamoci, è finito dietro le sbarre, nella scorsa, alla fine della scorsa stagione, abbiamo delle puntate, in cui Oliver ha le classiche, vicissitudini, che ci possiamo aspettare, in una serie del genere, che l'eroe abbia in prigione. Ovviamente succederà qualche cosa, per cui Oliver riuscirà a essere, in qualche modo, riabilitato, e in questa stagione, c'è la definitiva consacrazione, del suo status ad eroe, anche a livello popolare. Ormai la sua identità segreta, è completamente sdoganata, e di fatto, praticamente, tutti gli eroi di Star City, ormai, non hanno più un'identità segreta, sono praticamente tutti, alla luce del sole, e vengono, pian pianino, ingaggiati, dalle forze dell'ordine, dalla polizia. C'è un'istitualizzazione, delle forze, dell'ordine supereroistiche, fondamentalmente, in questa stagione, e se vogliamo, è in realtà, la cosa più sensata, che potrebbe, realisticamente, capitare, in un mondo, in cui esistono i supereroi. Onestamente, in generale, dopo aver visto la prima parte, visto il crossover, e visto la seconda parte, conclusiva, non mi posso ritenere soddisfatto, di questa stagione, perché, ci sono tutta una serie di elementi, che se sulla carta, dovevano essere, molto belli da vedere, in realtà, li ho trovati abbastanza, scontatelli, e un po' noiosi, e riescono, in qualche modo, ad essere funzionali, e, in parte carini, soltanto, grazie, a, gli elementi, che sono, cardine del crossover, di quest'anno, altri mondi, e che saranno, gli elementi, cardine del futuro crossover, Crise delle Terre infinite, che potrebbe essere, qualcosa di, straordinario, un po', l'Avengers Endgame, per il Arrowverse, che cosa non mi ha convinto, fondamentalmente, la storyline di Arrow, nel presente, è molto piatta, c'è questo, andare a recuperare, una sorella segreta, che di fatto, diventerà inizialmente, una sorta di, mini eroe, poi si scoprirà, è un nuovo Arrow segreto, poi si scoprirà, che in realtà, lei non è affatto, un'eroina, anzi, ha fatto tutto quanto, in maniera un po' contorta, per farsi notare, per perpetuare, una vendetta, che sta preparando, ai danni, del povero Oliver, perché in realtà, questa sorella, sta segreta, questa Arrow segreta, tale è, per via di una avventura, avuta dal padre di Oliver, Robert Quinn, questa ragazza, umico mi sembra che si chiami, medita vendetta, e quindi, fa parte, di un'organizzazione, di un'erocerchio, e la solita organizzazione, criminale, segreta, che cerca di dominare, il più possibile, lei è a capo di questo, anche se inizialmente, apparentemente, il capo era un altro, un certo Dante, che sarà una storia, la in più legata, al personaggio, di John Deagle, in realtà, e al, tutto quanto, il progetto dell'Argus, il, diciamo, una criminalità, un pochettino più palese, mettiamola così, in realtà, la minaccia definitiva, per la stagione, sarà lei, e, andremo avanti, ovviamente, la situazione verrà risolta, e, ovviamente, in qualche modo, anche se non ci sarà una vera, rivalutazione del personaggio, sul finire, non sarà un, addio al personaggio, quello del fine stagione, brutto, tutto sommato, troppo cattivo, pardon, perché, malgrado appunto, non si ravveda, praticamente, mai, comunque, la bontà di Oliver, qualche, strascico, in qualche modo, almeno, nelle puntate finali, pardon, nei momenti finali, avrà un qualche effetto, su di lei. Per quanto riguarda, invece, la più grossa delusione, ovvero, la storia del futuro, ci sono una serie di motivi, per cui, non mi sono entusiasmato, innanzitutto, onestamente, ora, capisco che il budget, è di una serie televisiva, e quant'altro, capisco che i mezzi, e tutto quello che volete, però, ho trovato un pochettino, banalotti, i modi, di truccare gli attori, per farli sembrare più vecchi, è una cavolata, però, tutto fa, diciamo, in questo, in questo universo, di film e telefilm, in cui l'immagine, conta tantissimo, soprattutto, quando si parla di superero, e con dei costumi, volgarmente, non mi ha entusiasmato, assolutamente, il team nuovo, nel futuro, che si verrà a creare, per quanto sia, un po' da tradizione, fondamentalmente, questo discorso qua, dei fili, che prendono le ridini, lasciate dai padri, in realtà, non l'ho trovato molto convincente, ho trovato interessante, in parte, il discorso, del futuro, delle canari, perché, da 1-2, Black Canary, si auspica, che nascerà, una vera e propria organizzazione, di fatto, con queste canari, e, può avere un senso, il tutto, perché può avere un senso, però, ora, onestamente, ho appena, ho da poco letto, che si pensa, di fare uno spin-off, dedicato, onestamente, la cosa, mi peserebbe un pochettino, sia perché sarebbe, l'ennesima serie, probabilmente, con casta femminile, che dovrei vedere, e sto parlando, quando, supergirl, pardon, non supergirl, quando Batwoman, non è ancora arrivata, nel senso, nulla contro le serie, a casta predominante femminile, però, diciamo, che con Batwoman, con Aro che va via, con Supergirl è già attivo, un altro delle canari, e, di fatto, con Legends of Tomorrow, che in realtà, ha i suoi personaggi, forse meglio sviluppati, che sono quelli femminili, comincia a esserci, una predominanza femminile, persino un po' eccessiva, tutto sommato, che dire, è noiosa, ovviamente, la parte di Black Siren, che si redeem, poi no, poi sì, poi no, non se ne può più, io purtroppo, unica cosa, dovevo ammettere, io sapevo, che questa sarebbe stata, di fatto, l'ultima stagione, per il personaggio, di Filipe di Smoke, in realtà, mi aspettavo, che sarebbe morta, il personaggio, mi sembrava un po' strano, onestamente, che facessero morire, un personaggio del genere, prima dell'ultima stagione, più che altro, perché non ci sarebbero stati elementi, per concluderli, in maniera positiva del tutto, la storia di Andy Oliver, che, mi immagino, avrà un finale, se non lietissimo, comunque abbastanza positivo, tutto sommato. Il personaggio di Felicity, che io mi aspettavo morisse, in realtà, semplicemente, nella linea temporale presente, non le accade nulla, di fatto, non le accade nulla, è soltanto quella, che raccoglie un pochettino, le rimanenze, dopo che Oliver, per via di un patto, fatto, con un personaggio, comparso nel crossover, di quest'anno, è stato deciso, dovrà andare via, dovrà andare via, di fatto, immagino, per affrontare, la crisi, questa crisi, che non vedo l'ora di vedere, come andrà. Parallelamente, nel futuro, il personaggio di Felicity, invecchiato di 20 anni, anche lei, va via, e auspicabilmente, immagino, che tornerà, per la conclusione definitiva, della storia, di Arrow, io mi posso immaginare, che malgrado, l'attrice, non, non ci sia, particolarmente, se non, quasi del tutto, nella prossima stagione, mi posso immaginare, comunque, un ritorno, in qualche modo, ecco, mettiamola così, dubito, che, il personaggio, non ci sarà, definitivamente, ecco, mi aspetto, comunque, che faccia parte, della seconda, della seconda parte, barra, del finale, della serie di Arrow, perché, comunque, è necessario, per dare un fine, un più o meno, detto fine, al personaggio di Oliver, morale della favola, prospettive per l'anno prossimo, ovviamente, ci sarà la risoluzione, il crossover, immagino, che, avrà, tante ripercussioni, necessarie, col personaggio di Oliver, ovviamente, la stagione prossima, sarà l'ultima, sarà quella conclusiva, e sarà più breve, e di questo, devo dirmi, abbastanza contento, perché, basta, Arrow ha dato quello che doveva dare, non ha più freccia al suo arco, obiettivamente, vedremo come andrà, vedremo, se riusciremo ad avere, se non, una buona stagione, come ai tempi, della seconda, stagione, comunque, una conclusione, abbastanza godibile, in generale, se ci sarà una prosecuzione, per il suo personaggio, oltre la serie, non sarò del tutto scontento, però, diciamo che, tutto sommato, se anche così non fosse, direi che possiamo ritenerci, più che soddisfatti, perché, ricordiamoci, abbiamo seguito per sette anni, più, ovviamente, di quanti gli anni, in cui c'era Smallville, con l'altro Oliver Queen, l'altro, Freccia Verde, per cui, diciamo che, possiamo obiettivamente, ritenerci soddisfatti, di questa, sorta di Robin Hood, del mondo, supereroistico, tutto sommato.